Ho utilizzato con grande piacere la possibilità di pubblicare open access e quindi in libera visione a tutti i lettori uno dei miei articoli utilizzando il token messo a disposizione all'interno dei cosiddetti transformative agreements che appunto sono uno strumento che ci agevula e che ci aiuta nel reperire risorse che possono coprire costi di pubblicazione open access. Naturalmente considero questo uno strumento fondamentale per il nostro futuro, per il futuro delle nostre discipline, delle comunità accademiche in un paese come l'Italia che certamente ha una forte tradizione di ricerca ma non è sempre così forte dal punto di vista del supporto finanziario alla ricerca di ogni tipo, da quella sperimentale a quella di scienza sociale e humanities. Penso che sia soprattutto uno strumento di democrazia accademica perché è uno strumento che andrà a aiutare soprattutto coloro, penso ai giovani scolari, alle nuove generazioni che hanno un accesso più limitato e che comunque hanno più problemi a reperire all'inizio della propria carriera delle risorse per poter accedere a canali di pubblicazione costosi come sono oggi quelli cosiddetti open access. E quindi sono molto contento di utilizzare e a maggior ragione sono contento di poter pubblicizzare questo strumento. Nel mio caso si è trattato di un articolo che è uscito con Springer, uno dei circuiti, uno dei major più importanti nel settore delle scienze sociali ed era un articolo che aveva a che fare con il futuro della scienza politica. Era un articolo che introduceva una specializia, un fascicolo dedicato al ruolo della scienza politica in questi tempi di crisi. Penso che questo sia particolarmente importante perché qui siamo all'incrocio tra disseminazione scientifica in senso stretto e terza missione perché stiamo con questo tipo di ricerca a cercare di individuare il ruolo delle nostre discipline nel futuro e anche forse a dare un futuro di reputazione alla scienza che è una cosa molto importante in questo momento storico. Per questo ritengo che il transformative agreement e la possibilità di andare open access attraverso questo aiuto importante che ci viene dato è uno strumento fondamentale da disseminare al meglio nella nostra comunità. Grazie a tutti!